Ciao amiche! Ok, allora, come vi avevo super promessissimo, anche se però aspettate che c'è un po' buio, aspettate. Ok, allora, benvenute nella splendida casa di mia nonna. Allora, praticamente, questo è un outfit per ragazze grasse. Ragazze grasse, guardate questo outfit perché è una bomba, si vede già il mio Asgen Away. Ok, comunque, allora, partiamo dai accessoretti. Anelli miei soliti, sempre, che ho già fatto vedere negli altri video, nulla di più. Poi, un prissigangento, uno nero per fare la pazza. Occhiali in testa, così, molto tranqui. Un trucco proprio mega leggerissimo, super estate. E questa con la nozza, che l'ho fatto vedere nel video haul. Poi, allora, la borsa, questa, che è una pochette di Terranova, pagata 9,90 euro, con le borchettine. Che è questa, ragazze, è stratattica, perché vi spiego. Allora, ho questa maglietta di, come si chiama? di OVS, pagata 6,99 euro. Fantattica e sotto. Ho una cosa, tipo, nera, dritta, di Terranova, perché? Perché volevo fare la pazzotta, andare in giro col pezzo di... di tetta fuori, però, dovevo andare in ospedale a trovare mio nonno. Non mi sembrava il caso. E, secondariamente cosa? Questa è tattica, sapete perché? Perché, se ce li avete anche voi, cicciottine come me, cioè, cicciottine, minchia, da sto video, sembro più obesa di quanto sono, vabbè, fa niente. Se... se ce li avete anche voi, i cicciottini qui e i cicciottini dietro, queste maglie qua, ve li tengono proprio... cioè, capito come? Che minchia, la magrezza. Sotto, pantaloni neri, cioè, siamo una scema, però. Vabbè, comunque... pantaloni neri, rigorosamente, qui... perché, cioè, se non metto i pantaloni qui, tutto mi straborda fuori, invece, così, minchia, nessuno si accorge, mettete la maglietta un po' mollettina per fare le fighe. Poi, vabbè, scarpe da ginnastica, che non vi sto a far vedere perché c'hanno i lacidi e lochitti. E... aspettate che prendo il cellulare. E vi assicuro che con questo outfit, ragazze, allora, prima di tutto, il nero snellisce di brutto e quindi... e quindi siete già fighe di vostro. Secondariamente cosa? Fate lo stile con sta maglia così un po' a righe, un po' Bronx con sta collana. Terza cosa, puntate molto sulla simpatia. E quarta cosa... Ah, sì, vi sto dicendo la pochette da tenere rigorosamente. Non so se l'ho già detto, sono un po' stordita. Rigorosamente così che, tac, guardate quanto copre, quanto copre, quanto copre, quanto copre, copre troppo. E praticamente... Cosa vi volevo dire? Che con questo outfit fate una porca figura. O fate le porche e basta. Decidete poi voi cosa volete fare. Niente, questo era il primo outfit. Io devo trovare una postazione, un qualcosa, un... Capito? Perché tipo, volevo appoggiarlo qua, no? Dove c'è la macchinetta e il caffè. Però è un po' basso, cioè non mi vedete bene. Ma poi così... Mai riprese dal basso, amiche grasse. Perché? Riprese dal basso, l'obesità avanza. E quindi niente, adesso io chiudo questo outfit perché sono stanchissima, sono le 5. e sono distruttissima. Non ho messo anche la mattina sotto da quanto faccio. Schifo da una mille minchia, sto piercing mi si è tipo infettato. Che puttana, mi fa stramale. Se è gonfiato dovrebbe essere così, fate voi. Volevo andare dal piercer qui a casa di mia nonna in provincia di Bergamo, però è chiuso il lunedì, ha preso l'un martedì. Posso morire? Posso morire? E nulla. Sono già 4 minuti e 36 di video, dovrò riguardarlo perché se non mi piace lo riregistrerò. E voi vi direte, ma scusa, non ti vergogni di andare in giro con i pantaloni così aderenti, con quella ciccia burrosa di merda che hai, cicciona schifosa, lurida, cagna, laida, che potresti anche fare la dieta dimagrire. No, perché ho deciso di farvi un video in cui parlo il perché sono grassa. Allora, io non sono grassa. Vabbè, no, ve lo spiego in quel video, non so, ve lo spiego in quel video. Se non fate caso quanti quadrici ha mia nonna, non lo so manco io, vabbè. Ok, vi faccio un video quanto, perché sono grassa e la storia della mia grassezza. Ok, basta, adesso mi super riposo perché sono stremata, mi faccio un latte cacao di prepotenza e mi butto sul divano. Ho guidato la macchina con le marce e stavo morendo, ciao!